Ragazzi, un attimo di silenzio! Vi devo dare una comunicazione importantissima! Davvero? Può starne certo, signore. Ci siamo, John. Ok, ci sto, tra poco partiamo. Sarà spettacolare! Addirittura! Ragazzi, il cinema TV! Ragazzi, il cinema TV! Evo? Cosa? Ragazzi, il cinema TV! Non capisco che cosa c'è da dire! Cosa devo dire? A me piace il cinema perché... Perché si vedono tanti film! Cioè, sì! Fare un film ti trasmette tante emozioni! Perché è una gran figata! Dico solo che sognare non fa male! E quindi? Se vuoi, ti porta a fare un giro! Così vedi tutti i posti che non hai ancora visitato! Benissimo! Si parte! Si parte! Beh, troveremo il modo di non annoiarci! Benissimo! Ragazzi, il cinema TV! Ah, devo andare! Ciao! Che storia, ragazzi! Il cinema TV! E cosa dovrei fare? Oh, no! тиdio, l'hoid! mucho! Ciao!